Con voglio di larmi Stanno arrivando! Vi prego, non devono profanare il Tempio! Ecco! Grazie. 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 Gli spettri udirono l'arrivo del resto della carovana. Gli spettri sentirono i cani degli ioni abbaiare e ringhiare in lontananza. Grazie. Grazie. Fa scorta per la battaglia. Grazie. Il palco è imbattibile. Non avevo scambio. Ero un sistema. Mortiglioni, il tesoro aspettava solo gli spettri. Sei un vero alleato! Un brivido di paura raggelò gli spettri, mentre gli spettri giunsero alla loro destinazione finale. Nelle paludi di Umugi. Non oso proseguire oltre. Tocca voi adesso. Gli spiriti ardenti si vilarono da lontano, pronti a far piovere fuoco. Sono risparmiati. Per secoli. Gli spiriti ardenti si vilarono da lontano, pronti a far piovere fuoco. Mi libero io. Non c'è l'obietà. Non c'è l'obietà. Grazie. L'argo è imbattibile. Fa scorta. L'Oni caricò gli spettri per proteggere le statue e le reliquie rubane. Per proteggere l'esercito di Dio. Non aveva scampo. L'argo è imbattibile. L'argo è imbattibile. Il piano di Dio era fallito con la sconfitta del comandante Omi. Le statue e le reliquie furono restituite ai templi e messe al sicuro. Ma ancora oggi c'è qualcuno che sostiene di sentire il potere degli Oni mentre cercano di liberarsi dalle loro prigioni. Una pergamena per tutta. Sei un vero alleato. Che gradita sorpresa. Grazie. 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 Grazie.